Buongiorno, sei un imprenditore nel settore dell'elettronica? Allora possiamo aiutarti. Sono Marco Gorini di Enterprise Europe Network Italia ed ecco tre cose che possiamo fare per te. Possiamo aiutarti a sviluppare la tua attività trovando le competenze di cui hai bisogno nel campo della microelettronica e le fonti più appropriate di finanziamento. Possiamo aiutarti a crescere a livello internazionale trovando i partner commerciali giusti per te. Quando senti il bisogno di parlare delle sfide del futuro della tua azienda siamo qui per ascoltarti e guidarti. Quindi contattaci e vedremo come poterti aiutare.